I virus. I virus sono un argomento molto affascinante dello studio della diversità ambientale, specialmente di questi periodi dove quando si nominano i virus si pensa solamente a virus patogeni e in particolare a SARS-CoV-2. Cose che dovreste sapere già tutti quanti. La parola virus viene dal latino, che vuol dire veleno, un elemento capace di replicarsi solo all'interno di una cellula ospite, non ha capacità metabolica, non ha un metabolismo, non ha una macchina di cellulare generalmente. A livello più semplice possibile il virus è fatto di materiale genetico, all'interno di un coat proteico chiamato capside, in realtà sono di una varietà enorme, e possono infettare una grande varietà di organismi, sia eucariotici che procariotici che potisti. I virus che infettano i batteri e gli archaea, i virus che infettano i protisti in generale sono chiamati batteriofagi, anche quelli archaea vengono chiamati batteriofagi, per via del fatto che prima del 77 tutti i procarioti erano batteri. Spesso invece di batteriofago viene utilizzato la parola fago, semplicemente, come abbreviazione. Una delle definizioni che mi piace di più del virus è una brutta notizia all'interno di un capside proteico, a piece of bad news wrapped in a protein case. Se ci pensate non sono diversi da una chiavetta USB che contiene un virus come programma al suo interno, che da sola la chiavetta col virus all'interno non può fare niente, ma nel momento in cui viene inserita all'interno di un computer, utilizza il computer per riprodursi e fare danni. Quindi l'analogia nel chiamare i software informatici virus in realtà è veramente azzeccata, specialmente se si pensa a quelli che vengono trasportati da chiavetta USB o altri dispositivi mobili. Questo è un esempio di due delle strutture più diffuse. La struttura più semplice è che manca nonché virus nudo, alla sinistra, dove si ha l'acido nucleico e il capside, fatto da capsomeri, proteico. A destra vedete un virus di quelli invece envelope, che contiene una membrana secondaria esterna, che possono essere di ligoproteine, lipidi, di varia natura e forma. La prima cosa da tenere presente quando si parla di virus è la loro abbondanza. Sono l'entità vivente, non viene chiamato essere vivente, ma entità biologica, l'entità biologica più abbondante del nostro pianeta. Si stima che ci siano 10 alla 31 virus sul nostro pianeta e il solo fatto che siano in genere 10 volte o più l'abbondanza dei prokaryoti suggerisce che abbiano un ruolo importante. Perché nonostante siano molto piccoli, se sono così abbondanti probabilmente hanno un effetto sull'ambiente. Questa è una foto fatta con microscopio elettronico a trasmissione, a contrasto, dove sono visibili dei profaggi, dove si vede chiaramente sia il capside che la lunga coda. E poi esistono versioni più complesse di visualizzazione. Qualcuno riconosce questo virus? Dovrebbe essere l'ebola. Esattamente. Questa è una foto a microscopia elettronica colorata, a false color, dopo aver scattato la foto, dell'ebola. E in alto si vede una ricostruzione tridimensionale della struttura dell'ebola, fatta utilizzando la struttura tridimensionale di ognuna delle proteine che voi vedete presente. La classificazione dei virus è molto complessa. Viene fatta sia per struttura che per morfologia, che per contenuto di DNA. Una prima grande classificazione viene fatta per contenuto di materiale nucleico, perché esistono virus che contengono DNA, virus che contengono RNA, virus che contengono DNA o RNA e vanno incontro alla trascrizione dall'uno all'altro prima di infettare i famosi retrovirus. A loro volta il materiale nucleico può essere single strain o double strain. Quindi già vedete che la diversità dei virus, solo a livello del contenuto dell'acido nucleico in cui è trasportata l'informazione, può essere molto grande. Al contrario delle cellule invece prokaryotiche e eukaryotiche, che contengono solamente come materiale genetico, contengono solamente DNA double strain. Questo è un esempio anche di classificazione. Sono colorati in base al dominio che infettano. Vedete i virus, quelli classici, i faggi classici con testa e coda, sifoviride, mioviride, podoviride, infettano sia batteri che archea. Poi esistono un numero di virus che infettano solo i batteri e un grande numero di virus che infettano solo gli archea. Si pensa infatti che gli archea abbiano la più grande diversità di virus, quantomeno dal punto di vista morfologico esistente. Lo studio dei virus in ambiente marino in realtà è iniziato con tecniche non culturali, è iniziato abbastanza di recente. Questo è un lavoro pubblicato nel 1998, che è il primo lavoro in cui si è fatto un conteggio dei virus presenti in ambiente, utilizzando uno dei primi coloranti che poteva colorare il DNA doppia elica e mantenere l'efficiente. Vedete questa foto sulla destra in cui dell'acqua di mare è stata concentrata e si vedono i batteri che sono le cellule più grandi e i virus che sono tutte le cellule più piccole che si vedono sullo sfondo. Fino a quel punto, e dopo quel momento, la maggior parte degli studi di diversità mirale in ambiente si passavano o sui conteggi, come la foto di prima, o su survei della diversità morfologica dei virus, come questa slide che vedete qui, in cui si utilizzava la microscopia elettronica per contare i morfotipi di virus diversi in ambiente, oppure tecniche genomiche molto rudimentali, come la pulse field gel electrophoresis, che serve solo per separare DNA virali che hanno dimensioni diverse e composizioni diverse per poi contarli. La metagenomica ha stravolto completamente questa cosa qua permettendoci di andare a sequenziare i virus, o come parte della comunità totale del DNA totale estratto, o concentrando i virus prima di estrarre il loro DNA o RNA e andarlo a sequenziare. Vi ricordo di nuovo che la loro abbondanza è elevatissima, ma le loro dimensioni sono molto piccole, il cut-off nominale dei virus è sotto i 200 nanometri, quindi inferiori ai 200 nanometri in genere, anche se non sempre, questo vuol dire che la quantità di DNA che contengono è molto molto piccola. E nonostante siano più abbondanti dei batteri, generalmente è necessario campionare grandi quantità di matrice ambientale per poter concentrare e isolare i virus. In alcuni casi centinaia di litri di acqua vengono concentrati per permetterci di sequenziare i virus. I virus hanno uno stile di vita molto particolare, anche queste sono cose che sicuramente sapete. Un ciclo litico, un ciclo lisogeno, un ciclo cronico. Nel ciclo litico il virus infetta la cellula, si riproduce al suo interno fino a farla scoppiare, a lisarla. Nel ciclo lisogenico il virus, una volta entrato nella cellula, integra il suo DNA all'interno del cromosoma dell'host e rimane dormiente al suo interno finché non viene indotto, finché non viene stimolato. In realtà se l'integrazione è molto lunga, viene passato alla progenie e si possono accumulare mutazioni che fanno sì che il profago diventi inattivo, che sia integrato in maniera permanente. I virus cronici sono quelli che continuano a moltiplicarsi all'interno della cellula, però non vanno incontro all'isi, ma a rilascio lento con vescicole di membrana dei virus prodotti. Queste sono alcune foto spettacolari in cui si vedono dei profaggi che stanno iniettando all'interno della cellula il loro DNA. E questa è una foto che invece dà l'idea di uno dei parametri più importanti da studiare quando si pensa al ciclo vitale e vivito, che viene chiamata burst size, o esattamente il numero medio di virus rilasciati da una cellula quando si rompe. Se noi pensiamo che ogni cellula infettata può generare 10 virus è una cosa, se ne può generare 100 è completamente diverso, perché sappiamo bene adesso che si parla di contatto per il coronavirus che l'infezione virale è funzione di quanto virus c'è rispetto a quanto è densa la popolazione dell'ospite, per questo evitiamo gli assembramenti, perché così anche se la carica virale è alta non ci sono opportunità di contatto. Più è alta la carica virale più è facile che avvenga un contatto anche se ci sono poche cellule simili in vicinanza. I virus hanno la più alta diversità genetica conosciuta in qualsiasi ambiente. Il più alto numero di geni che non hanno nessun match all'interno dei database, abbiamo database che contengono tutto il DNA sequenziato finora, continuiamo a trovare DNA virale che non è uguale a nulla, esiste il più alto numero di famiglie virali sconosciute, ogni volta che sequenziamo scopriamo gruppi nuovi di virus che non abbiamo mai visto, c'è il più basso numero di organismi coltivati tra i virus, coltivati tra virgolette perché per coltivare un virus devi avere il virus e l'ospite. Avendo poche batterie, archee e incoltura abbiamo ancora meno virus coltivati. Nonostante questo loro hanno un grandissimo potenziale di influenzare la diversità, l'evoluzione e la biogeochimica. E qui ci andiamo a infilare in qualcosa che è complesso e lungo e direi che siccome mancano poco più di 10 minuti alla fine, lo lasciamo per la prossima volta.